Quando andai la prima volta da quelle parti, era l'89, l'88, l'89, aveva già due tombe. Quindi quando si andava a cercare questi, o non lo conoscevano, diceva, ah sì, il pano nero, che faceva? Aveva due tombe, adesso ne ha tre. Non so, non so. È un mistero, è un grande artiste che è proprio stato un mistero. Lui ha scritto 20, 22, 23 pezzi, non ricordo bene, che sono proprio nel rock che noi sentiamo negli ultimi trent'anni, tutti hanno rubato da questo artista. La più celebra è quella famola. Se battete le mani me lo facciamo, date una mano a battere le mani. Mi va, mi va. Vai, vai. Aspetta, aspetta maestro, aspetta. Come on. Yeah. Baby, don't you wanna to go. Come on. Baby, don't you wanna to go. . . . . . . . No, no, no. 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 No, no, no.